Non una testimonianza contro chi lavora a servizio dello Stato, ma un segno esplicito di sostegno a quanti artigiani, imprenditori, negozianti che fanno i conti con una pressione fiscale insostenibile. E' questo, in estrema sintesi, lo spirito che ha animato l'iniziativa nazionale di fare per fermare il declino, presente quest'oggi con un presidio davanti alle agenzie delle entrate d'Italia e, come vedete dalle immagini, anche davanti agli uffici materani. Perché la politica deve occuparsi di questo, ridurre gli sprechi e i costi della spesa pubblica per poter dare un futuro a chi lavora. Dopo i congressi, il Movimento Liberista degli Illuminati e degli Economisti, fondato da Oscar Giannino, è ormai una realtà politica a tutti gli effetti. Michele Boldrin ne coordina le attività a livello nazionale, mentre dopo lo scandalo della laurea finta, Oscar Giannino rappresenta uno degli attuali 10.000 attesserati, sia pure di eccezione. L'obiettivo, hanno sottolineato Michele Fanelli, coordinatore regionale, e Frank D'Addario della direzione regionale, è quello di superare entro fine anno la soglia dei 70.000 attesseramenti. Fare, hanno ribadito, non si muove secondo gli schemi tradizionali della politica e non mira al dialogo con i blocchi di potere precostituiti, né a livello nazionale né a livello regionale. Insomma, chi ci sta, ci sta. In quest'ottica di novità e rinnovamento, interlocutori privilegiati potrebbero essere proprio i 5 Stelle, con i quali si tenterà di avviare un confronto già nelle prossime settimane, viste peraltro anche le scadenze elettorali autunnali che attendono la Basilicata. Dopo lo scivolone di febbraio, si riparte dunque dalla riduzione della pressione fiscale, dalla richiesta di abolire l'IRAP e di intervenire sul cuneo fiscale, ma anche dalla politica.